Sono stati celebrati questa domenica il patriarcato armeno di Istanbul, in Turchia, i funerali dell'arcivescovo Mesrop Mutafian, scomparso lo scorso 3 marzo all'età di 62 anni. Malato da tempo e deceduto a causa di un infarto, nell'ospedale armeno di Surpirgic, dove era ricoverato. Mutafian, 84esima guida della chiesa armena ortodossa di Istanbul, venne eletto patriarca nel 1998. Dal 2008 soffriva di una forma di demenza precoce che gli aveva impedito di esercitare il suo mandato e per questo le sue funzioni erano state affidate a un vicario, l'arcivescovo Aram Atesian. L'elezione del successore avverrà con la convocazione di un sinodo dopo un lutto di 40 giorni.